Ciao a tutti, io sono Giulia Viti, una life coach per donne della regione toscana. Il mio lavoro è quello di aiutare le donne a far uscire i sogni dal cassetto. Questo è il mio primo video in collaborazione con il videoblog di assistente sociale privata. Oggi registro dall'America e credo non ci sia un posto migliore per parlare dei bisogni e in particolare dei bisogni indutti. Come vedete sono al Rite Aid, che è un'attività farmacia di qua, ma dentro c'è di tutto e di più, molto più delle medicine. Sappiamo che oggi molti dei bisogni che abbiamo ci sono stati in qualche modo introdotti dai film, le pubblicità. Possono essere sia bisogni di cose materiali, ma anche bisogni di un certo tipo di amicizia o di una relazione, il famoso uomo ideale. Ci sono gli influencers e rischiamo di non essere felici se non assomigliamo agli influencers. Questo è il mondo in cui viviamo, non possiamo farci molto, ma possiamo cercare per la nostra felicità e completezza di capire quali sono i nostri veri bisogni. Per le cose materiali che desideriamo è molto facile. Basta che ci chiediamo, vorrei questa cosa lo stesso anche se non potessi mai farla vedere a nessuno? Se la risposta è sì, probabilmente è un vero desiderio. Altrimenti chiedetevi se siete magari state influenzate. Non c'è assolutamente niente di male, ma può salvare del tempo e del denaro riuscire a capire questo. Per quanto riguarda le relazioni, il discorso è un po' più difficile. Vorrei cambiare lo scenario.